Carissimi telespettatori, un bentornato, anzi bentornati a Via Roma 39, il nostro appuntamento settimanale con il sindaco di Mantova, Nicola Sodano. Un bentornato, signor sindaco, nei nostri studi. Allora, ripartiamo. Grazie, un saluto a lei e a tutti i telespettatori e sono molto contento di questa ripartenza. Bene, allora, quest'anno siamo di scena con Via Roma 39 il mercoledì, mi raccomando, seguiteci sempre. Allora, tutte le settimane collegamento, possiamo dire, in linea diretta con il comune di Mantova, così come avevamo fatto un po' la passata stagione. Ma, signor sindaco, quest'anno ci saranno anche delle novità che, cari telespettatori, scoprirete poi nel corso delle nostre trasmissioni. Allora, vi ricordo che per scrivere subito mail alla nostra trasmissione, viaroma39chiocciolatelemantova.com, così potete parlare anche direttamente con il sindaco di Mantova, Nicola Sodano. Non perdiamo tempo, però, perché, signor sindaco, questi sono giorni molto frenetici. Sì, sabato scorso abbiamo visto l'inaugurazione di questa attesissima mostra, la mostra su Virgilio. Insomma, iniziamo a dare un minimo di concretezza, insomma, a tante azioni, a tante iniziative, a tanti progetti. Allora, com'è andata innanzitutto sabato scorso? Beh, la mostra sta avendo un ottimo successo, solo nella giornata di domenica scorsa, che è stata la giornata d'apertura, ci sono stati più di mille visitatori. La mostra è un successo dal punto di vista, diciamo così, dell'operazione culturale che è stata messa in campo. È la prima uscita del nuovo comitato scientifico di Palazzo Tè, realizzata appunto dal curatore Farinella, che è uno storico dell'arte, archeologo, membro del comitato scientifico, realizzata con la collaborazione del Museo del Bardo di Tunisi, perché, come lei ben sa, come i telespettatori sanno, il pezzo forte di questa mostra è questo mosaico presente al Bardo di Tunisi, che è la prima volta che esce. Ecco, come ci siete riusciti? La prima volta che esce dalla Tunisia, e peraltro abbiamo sentito proprio durante i giorni dell'inaugurazione, i giorni immediatamente precedenti, che addirittura il Louvre ha chiesto questo mosaico, e al Louvre è stato detto di no, a Palazzo Tè è stato detto di sì. Sì, c'è una vocazione italiana del mondo tunisino, che è stata risvegliata anche dalla rivoluzione dei Gelsomini dell'inizio di quest'anno, per cui abbiamo trovato le porte aperte non solo nell'ambito del Ministero della Cultura tunisina, e quindi conseguentemente nell'ambito del Museo del Bardo, ma proprio anche da parte delle autorità italiane, che con l'ambasciatore Benassi e con il sottosegretario Stefania Craxi e l'interessamento del Ministro Frattini, in maniera diretta, hanno gradito molto questa iniziativa culturale della città di Mantua. Ecco, peraltro è probabile, signor Sindaco, che sia anche l'ultima volta che esce, no? L'ultima volta, ci è stato dichiarato espressamente sia dal Presidente, dal Direttore del Museo del Bardo che dal Ministro della Cultura, che è senz'altro l'ultima volta perché a marzo sarà inaugurato il Museo del Bardo a Tunisi, e questo mosaico rappresenta l'icona proprio dell'intero museo. Ecco, ricordiamo, un mosaico romano del terzo, inizio terzo secolo dopo Cristo, quindi veramente... Poi, soprattutto, le ricostruzioni che sono state fatte dal nostro curatore, questa è la caratteristica che rende scientificamente unica questa mostra, è il mosaico che raffigura più verosimilmente le vere sembianze di Virgilio. È vero, perché poi di fatto è anche quello proprio più vicino a lui come tempo, ecco, come... Bene, allora, senta, signor Sindaco, abbiamo iniziato appunto a parlare di questa mostra, lei ha già citato che è stata la prima mostra del nuovo comitato scientifico, curata appunto da Vincenzo Farinella, e noi proprio sabato, il giorno dell'inaugurazione, siamo andati a sentire il presidente del comitato scientifico di Palazzo Tè, del centro, Alain Alcan, e anche lo stesso curatore, Vincenzo Farinella. Sentiamo cosa ci hanno detto. Un ritorno alla grande a casa di Virgilio? Sì, è molto importante per Mantua, per il Palazzo Tè, no? Questo fatto che, questo che è forse il ritratto più fedele di Virgilio, no? Perché dicono che questo ritratto sia come lui fosse, che si trovava in la casa di un potentato, no? Dell'epoca in Tunisia, come un pavimento, che è stato riportato qua per la prima volta. Quindi è un momento molto felice per Mantua, per me in particolare, per il Palazzo Tè, e ringrazio il sindaco Sodano che ha permesso di portare a casa questo mosaico e spero che il Presidente della Repubblica, che ha molto voluto che ci fosse questa mostra, possa venire a visitare. Qual è il valore aggiunto di questa esposizione? Il fatto che ci sia questo capolavoro qua, e poi non so, per esempio io trovo molto molto belli tre quadri inglesi che raffigurano la tomba di Virgilio a Napoli, no? Che è un luogo che Virgilio nasce a Mantua, poi va a Napoli, e qui lo facciamo tornare a Mantua dalla Tunisia, no? Questo grande poeta, che poi è il maestro di Dante e di moltissimi altri grandi poeti. Professore Farinella, Alen Elkan indica nel mosaico romano e nei quadri raffiguranti la tomba di Virgilio, i due valori aggiunti di questa esposizione. Che storia c'è dietro queste opere? Allora, la storia della presunta tomba di Virgilio è una leggenda particolarmente suggestiva e che ha avuto anche degli ecchi figurativi molto importanti, come si vede dalle opere alle mie spalle. Si sapeva che Virgilio era sepolto a Napoli, a piedi grotta, quindi poco fuori del circuito urbano della città, in una tomba. La tomba poi probabilmente andò distrutta nei secoli dell'Alto Medioevo, ma a partire dal 1300 ci fu la volontà degli umanisti, dei molto umanisti come Petrarca, di trovarla. E fu identificata in questo anonimo luogo di sepoltura, che dal 1300 fino al 1800 è diventato con assoluta certezza la tomba di Virgilio. In mostra abbiamo avuto la fortuna e direi la possibilità eccezionale di poter avere per la prima volta in prestito dal Museo del Bardo di Tunisi l'unico mosaico romano che ha delle concrete possibilità di tramandarci le reali fattezze del poeta. Quindi è un prestito eccezionale che in qualche modo ha fatto nascere questa mostra e che credo risulterà di grandissimo interesse non solo per gli amanti dell'arte, ma per tutti gli amanti della letteratura. Bene, allora signor Sindaco, abbiamo sentito Alain Elkan, Vincenzo Farinella, entrambi ovviamente sono tornati su questa diciamo chicca, il mosaico romano del Bardo. Alain Elkan però si è soffermato anche sui quadri appunto, questi bellissimi quadri preromantici raffiguranti la tomba di Virgilio. Magari poi insomma i visitatori che già hanno conosciuto questa mostra ognuno poi avrà le sue preferenze, però davvero insomma sono diversi i pezzi, molto importanti diciamo i pezzi di grande trascinamento all'interno di questa mostra. Certo, lei mi dà lo spunto per ricordare ai telespettatori che la mostra manifesta diciamo così il genio di Virgilio in diversi modi, col mosaico, con i quadri, però anche con sculture, anche con una bellissima raccolta di monete, fino a terminare con un'evoluzione anche dei metodi di rappresentazione, fino a terminare con un bellissimo video, quindi un video che riproduce anche le sensazioni in termini di ambiente e di rumori e di clima che respirava Virgilio a Mantua, è un modo anche per capire di più la poetica di questo grande maestro. Ecco, a lei qual è la parte della mostra che è piaciuta di più? Il mosaico? È d'obbligo una domanda di questo genere. Ma il mosaico è d'obbligo ed è veramente un'emozione vederlo qua perché io ho provato personalmente l'emozione di vederlo a Tunisi in un luogo ben protetto e mantenuto come se fosse un'icona insomma da difendere da tutto e da tutti, quindi una grande emozione nel vedere questo mosaico, però anche i quadri che qui ci sono sono quadri che esprimono, diciamo così, dei sentimenti unici che non sono mai stati rappresentati in altri quadri perché i temi virgiliani sono veramente dei temi che riempiono il quadro ma dei temi che riescono a far esprimere la poetica del grande poeta, insomma, sembra un po' una contraddizione e io ne approfitto per invitare soprattutto i mantovani a non perdere questa occasione perché sicuramente abbiamo già, diciamo così, degli indicatori che ci dicono che in giro ci si sta organizzando per venire a Manto a vedere questa mostra. Spero che i mantovani non perdano questa occasione perché hanno il privilegio di averla in casa. Certo, ecco, abbiamo sentito Alain Elkan che si augura, auspica l'arrivo del Presidente della Repubblica napolitano per questa mostra e signor Sindaco sembra che sia proprio di ieri una telefonata della Segreteria della Presidenza a lei direttamente per dare qualche speranza in più, ci sono speranze concrete che arrivi il Presidente. Lei sa che la mostra è nata anche nell'ambito di un piacevole dialogo che io ho avuto con il Presidente della Repubblica subito dopo il rigoletto trasmesso in Mondovisione, quindi l'auspicio è che il Presidente della Repubblica possa venire e stiamo lavorando per questo, io sto lavorando per questo e speriamo che non tanto il lavoro del Sindaco ma che la storia di questa città dal punto di vista del ruolo che ha avuto nel risorgimento italiano possa essere premiata con l'arrivo del Presidente. Quindi legare le iniziative virgiliane al 150esimo dell'Unità d'Italia. Lei sa che la mostra si situa all'interno di una pluralità di iniziative virgiliane che dureranno appunto sino all'8 di gennaio e le iniziative di virgiliane si intitolano appunto onori al Virgilio, quindi onori al plurale, a Virgilio, in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia perché Virgilio e 150esimo dell'Unità d'Italia sono sinonimi in quanto Virgilio è stato il primo cantore che ha cantato l'Italia ancora prima che l'Italia prendesse corpo come nazione. Certo, assolutamente. Senta, signor Sindaco, se arrivasse Napolitano pensiamo che nel 61 il Presidente Gronchi era venuto a Mantua per la grande mostra sul Mantegna che è stata considerata la prima grande mostra moderna proprio. Poi abbiamo avuto Ciampi nel 2002 con la Celeste Galleria. Se arrivasse Napolitano sarebbe davvero un grande riconoscimento anche proprio all'organizzazione di questa mostra. Ecco, le chiedo, lei è Sindaco ma è anche Assessore alla Cultura. Da Assessore alla Cultura era proprio questa la mostra che aveva in mente? Ma guardi, io come Assessore alla Cultura, questo lo sto dicendo a chiare lettere, voglio riportare l'attenzione di Mantua e le energie di Mantua sui grandi nomi che sono sinonimo di Mantua. Quindi questo lo stiamo facendo con Virgilio ed è, non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza di un percorso che faremo. L'abbiamo fatto e lo stiamo facendo per Rigoletto, dal Rigoletto in Mondovisione sino alla piccola stagione riferita a Rigoletto che abbiamo fatto quest'estate in Piazza Castello e il terzo nome Nuvolari. Ecco, questi sono tre nomi, Nuvolari in modo particolare è un nome che è più famoso al mondo del nome di Mantua. Se si va in America si cita Nuvolari, tutti sanno chi è, cos'è, Mantua un po' meno. Ma anche in Oriente, veramente è un po'... Quindi l'attività culturale di questa città che ha, diciamo così, distrattamente forse non valorizzato questi nomi, oggi viene riorientata verso una valorizzazione di queste figure. Beh, questo è molto bello, quindi dobbiamo aspettarci già, diciamo, nei prossimi mesi anche iniziative specifiche su Grande Nivola e Mantua Nuvolante? Certo, la prima cosa che noi faremo su Nuvolari è l'allestimento del nuovo museo perché dal sito provvisorio dove è oggi, in virtù di una collaborazione che abbiamo con la sovrintendenza, quindi è nel... Nel Ducale. Nel Palazzo Ducale, nelle stanze del Capitano, per intenderci, si trasferirà al Museo del Carmelino e lì sarà un'esposizione che sicuramente ha tutte le caratteristiche per diventare un'esposizione permanente e definitiva. Abbiamo un'idea dei tempi o è ancora troppo presto per abbozzare una tempistica? Stiamo accelerando anche perché dobbiamo lasciare liberi i locali del Carmelino, del Palazzo del Capitano, per cui il trasloco è imminente. Perché il Carmelino aveva bisogno di qualche lavoro di risistemazione? Abbiamo fatto dei piccoli lavori di sistemazione nell'ambito delle iniziative iniziali di estate a Mantoa perché è stata sede di momenti espositivi della rappresentazione estiva. Gli altri lavori li faremo in sintonia soprattutto con la buona volontà dell'ACI, soprattutto con la buona volontà di questa nuova associazione che è nata dal Museo Nuvolare, cioè l'Associazione Amici del Museo di Tazio Nuvolare. Ecco, una domanda per tutti gli appassionati della bicicletta. Prima il Museo Nuvolari era legato a quello di Guerra. Sarà ancora così anche al Carmelino o pensate ad un progetto diverso? No, al Carmelino c'è il posto per il Museo Nuvolari. Quindi sarà dedicato proprio... L'Arco Guerra è un altro grande nome al quale già noi abbiamo dedicato una piccola esposizione comunque significativa su questo nome. Questo per sottolineare che oltre ai tre nomi principali dedichiamo attenzione anche ai nomi diciamo così meno meno famosi di questi tre. L'abbiamo dedicato anche a Teofilo Folengo, noto come Merlin Coccai, in un convegno organizzato proprio dal Museo della città di Mantua, grazie alla disponibilità del dottor Venetti con l'intervento del professor Rodolfo Signorini. Ecco, signor Sindaco, lei cita Teofilo Folengo, Merlin Coccai e questo mi riporta alla mente però, ahimè, le polemiche che ancora una volta hanno caratterizzato una iniziativa della Comune. E la cosa incredibile è che non sono polemiche che arrivano dall'opposizione come ci si potrebbe aspettare ma sono polemiche ancora una volta che arrivano dall'interno della sua maggioranza. Addirittura insomma abbiamo sentito delle cose abbastanza grosse appunto con tutto il rispetto che ci si può avere per Merlin Coccai, Teofilo Folengo insomma come si faccia a metterlo sullo stesso piano di Virgilio ci vuole insomma veramente un bel coraggio assolutamente comunque dico con tutto il rispetto che abbiamo verso anche questo grande altro personaggio mantovano. Ma non pensa che la gente inizi davvero ad essere stanca e tutte le volte che il Comune, il Sindaco fa qualcosa c'è una delle altre forze di maggioranza che tac arriva, no, questa cosa non si doveva fare, non si doveva fare così, è stata fatta in una maniera non adeguata, insomma si sente proprio la stanchezza dei cittadini verso queste continue polemiche. Beh la stanchezza anche del Sindaco come ne può ben immaginare ecco ma la stanchezza di tutti, però distinguerei le cose, cioè una cosa è diciamo così la querel politica che non c'entra nulla però con l'aspetto culturale di cui stiamo parlando, l'altra cosa è l'aspetto culturale, qui sull'aspetto culturale bisogna fare una riflessione molto semplice, cioè lei sa meglio di me che la dicotemia o il contrasto fra il sapere e l'ignoranza oppure fra la cultura e la barbarie, questi sono temi che esistono fin da millenni a questa parte, sono temi presenti oggi e sono temi che caratterizzeranno anche il futuro. Allora queste attività culturali vengono fatte per due motivi, il primo motivo, sto parlando dal punto di vista squisitamente culturale, il primo motivo è per far godere chi già è colto o per sua predisposizione o perché ha avuto modo di prepararsi dal punto di vista culturale con studi appropriati e servono anche per promuovere chi colto non è, quindi questo è il tema che sarà sempre presente, per cui questa attività culturale che noi abbiamo fatto avrà sicuramente una caratteristica di promozione del livello culturale di ognuno di noi. Allora, si sono già capite molte cose dalle sue parole, però un cenno proprio esplicito sul fronte politico, è mai possibile che all'interno di questa maggioranza ci sia sempre qualcosa che non va? Beh, insomma, c'è un'enfatizzazione anche dovuta ai media locali perché cosa vuole? Questa è una città che avendo due quotidiani, due settimanali e due televisioni, questa è la tipica città dove il passo di una formica fa lo stesso rumore del passo di un elefante, quindi questo bisogna dirlo. Allora, io ovviamente mi dissocio da questa affermazione del sindaco perché secondo me non siamo noi media che esageriamo, ma ci sono molte cose vere all'interno di Via Roma. Su questo non c'è alcun dubbio perché non si può negare l'evidenza, però bisogna dire che siamo in un clima politico a livello nazionale, regionale, provinciale, complessivo, che è molto particolare. Le posso citare una cosa? Qualche giorno fa, come lei sa, perché ne avete dato notizia, io ho partecipato come sindaco a Brindisi, all'Assemblea nazionale dei sindaci. Dei Lanci, sì. Dei Lanci. Ecco, eravamo ospiti di una città il cui sindaco era stato appena mandato a casa dalla sua maggioranza, quindi una città con un commissario prefettizio. Quindi questo testimonia, diciamo così, un clima di instabilità che oggi c'è nel sistema nazionale in molti comuni d'Italia e questo è un po' figlio di questo tempo che noi viviamo. Bene, signor sindaco, allora il nostro tempo praticamente ancora una volta è scaduto, dico ancora una volta perché accadeva così anche nella passata stagione. Bene, allora abbiamo un po' sviscerato questa mostra su Virgilio, magari torneremo sulle altre iniziative, chiamiamole appunto virgiliane, sono tante, in qualche altra nostra prossima puntata. Allora, cari telespettatori, noi ci vedremo mercoledì prossimo con il sindaco Nicola Sodano che però penso che debba dare appuntamento ai nostri cittadini prima con un'altra iniziativa importante. Certo, un altro fatto concreto, oltre alla mostra di Virgilio, sabato prossimo alle ore 11 in Piazza Martiri inaugureremo appunto la nuova Piazza Martiri, quindi un altro fatto concreto, un'iniziativa importante che qualifica l'ingresso del nostro centro storico e allarga diciamo così potenzialmente il nostro centro storico e l'insieme delle piazze mantovane. Ecco, Piazza Martiri che da oggi tra l'altro è stata riaperta, signor sindaco. È stata riaperta, abbiamo finito i lavori diciamo così in linea con i tempi che ci eravamo dati, anche se mancano ancora qualche particolare perché l'illuminazione definitiva sarà posata a fine mese. Allora, appuntamento sabato con l'inaugurazione della riqualificata Piazza Martiri, appuntamento invece con Via Roma 39 a mercoledì prossimo. Grazie al sindaco Nicola Sodano per il suo intervento, grazie a voi cari telespettatori per averci seguito, appuntamento dunque tra una settimana. Arrivederci, buona settimana a tutti. Un saluto a tutti.